... ... Si va a completare l'ordine d'arrivo per i primissimi, molti loro affaticati ma contenti per questa grande prova. ... Non si speratevi ragazzi, fino in fondo, preparate il cartellino. ... ... ... ... ... L'ultimo sforzo ragazzi, fino in fondo, preparatevi, pagate il cartellino, ... 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 Quindi in fondo l'ultimo sforzo. Tutti in fondo, ragazzi. Grazie. Dopo un po' più di le premiazioni vi aspettiamo i migliori di ogni categoria, se vediamo le varie categorie le aspettiamo, tra poco le andremo a individuare grazie al contributo della segreteria. Allora, intanto vi ricordo lo stand delle foto che potete già prendere e acquistare direttamente, poi lo stand della popolazione dell'aiuto del Burkina Faso, il banchino della solidarietà con gli articoli tipici della nazione. Poi vi ricordo il stand a TV che andrà in onda da giovedì alle 22.20 con il runner scompettì da Venerdì invece, Toscana Scoperta invece sarà in scena giovedì alle 22.20 con la trasmissione runners, la trasmissione che si occupa di Atletica e Foglismo. Giovedì alle 22.20, la replica a partire da Venerdì mattina su www.runners.it, quindi visite in punta Italia. Non perdete questo appuntamento, salutiamo anche Vini che chiude in questo momento alla grande. e poi vi ricordo ancora le foto appunto www.artfotostudio.it Da un momento al tanto, rispetto aspetteremo le premiazioni, tenete di zona per le premiazioni di quest'ultima gara. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Per aver completato una prova, ecco vedete le scene di figlie che vanno a completarsi con i padri e anche i padri che vanno a completarsi con i mariti, soprattutto perché l'hanno trovato ancora in vita. Magari qualcuno di loro non si cimentava in una cosa che non si cimentava in una cosa che ha perso da almeno due anni e ce l'hanno fatta ad arrivare in fuoto ed è un grande successo. Ci continuano a seguire gli arrivi e intanto vi ricordo ancora il ristorante attivo nel tendone bianco dietro al bianco Stilinosa. Al centro del campo di Gara! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ancora vivi che si susseguono con questa grande grinza di questi atleti? Grazie a tutti! 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 Grazie